Arriva la prima condanna per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo avvenuto la scorsa estate ai danni di una 19enne. 8 anni e 8 mesi di reclusione per uno dei 7 ragazzi del branco che all'epoca dei fatti era minorenne. Dopo la sentenza parla la giovane. Non ho odio contro nessuno, mi spiace che si siano bruciati la vita e la stavano bruciando anche a me, anzi in parte me l'hanno bruciata. Soddisfatta è un parolone perché purtroppo non posso tornare indietro nel tempo e vorrei non essere mai andata quella sera alla voceria, ma sono contenta di essere stata creduta visto che tutti erano contro di me. Ora grazie al mio avvocato e all'associazione Leonde che mi supportano sto cercando di trovare una mia strada e di uscire da certi ricordi. Spero che il mio caso sia ad esempio affinché diminuiscano gli episodi di violenza, ha continuato la 19enne. Spesso mi scrivono donne che mi dicono che il mio caso le ha spinta a sporgere denuncia e ne sono contenta. La mia è una specie di sopravvivenza, spero che si trasformi in una vita che sia felice e basta, ha concluso la ragazza. Anche gli altri sei giovani accusati della violenza sessuale hanno scelto il rito abbreviato. Per loro la sentenza del Tribunale di Palermo dovrebbe essere pronunciata ad aprile. La loro tesi difensiva è sempre stata che la ragazza fosse consenziente, ma lei ha sempre negato. In alcune intercettazioni emerse, peraltro, sarebbero proprio gli imputati a dire che la vittima aveva più volte chiesto loro di fermarsi.